sapete? si oh, vai 100 piega sinistra, 100 in piega sinistra lunga 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 alle lamiere, ritarda, destra 2 gira e chiude alle lamiere, ritarda, destra 2, gira e chiude gira e chiude, attento e sporco eh piega sinistra dosso piega sinistra con dosso per piega sinistra sinistra e al palo, piega sinistra ancora per stai al centro 70 stai al centro 70, dosso, ritarda, destra 2 ritarda eh, destra 2 triplo dosso, frenaci, frenaci, sinistra 2 lunga, attenzione, ritarda, inversione destra e chiude inversione destra e chiude inversione destra e ritarda là sinistra 2, lunga lunga tieni, lunga lunga, tieni lunga lunga, tieni, tieni attenzione, in traiettoria sinistra 2, sale sinistra 2, sale attenzione, in traiettoria ce l'hai eh sta, oh oh ok, 50, dosso, piega destra 50 dosso, in piega destra dosso piega destra, scende stai al centro, sale, dosso lungo in piega sinistra sconnessa piega sinistra, dosso lungo piega sinistra sconnesso piega destra lungo, piega destra attenzione, scende 100 molto, oh scendo, molto sconnesso e al palo, tieni sinistra 70, sale sconnessa oh, occhio qua in mezzo sale sconnesso destra, sinistra 4, oh destra, sinistra 4 Peppe, destra, sinistra 4 scende, scende scende, 70 sconnessa, i fiori sinistra 2, stacca sinistra 2 sinistra 2 qua destra, sinistra 2 destra, sinistra 2 sale, destra 4 per alla croce sinistra 3, sconnessa tieni, sporco tieni sporco tieni, tieni 70, scende dosso, destro dosso, destro dosso, destro arraile sinistra destra 3, gira destra 3, gira arraile sinistra destra 3, gira destra 3, gira qua gira per attenzione gira sinistra 4 sul pivio destra 2, sale sul pivio destra 2, sale attenzione qua inserite piega sinistra per dopo il 40 piega destra dopo il 40 piega destra piega destra 70 al cartello destra 5 al cartello destra 5 tieni sinistra destra 3, gira destra 3, gira gira questa destra 3, gira gira arraile sinistra 3, gira gira pure questa peppe gira fine arraile non tagliare c'è il muretto destra 3, chiude non tagliare c'è il muretto in traiettoria destra 3, chiude in sinistra 3, gira con dosso sinistra 3, gira con dosso gira con dosso in piega sinistra con dosso piega sinistra al cartello al dosso attenzione destra 3, meno meno tieni meno meno tieni questa è sconnessa questa sconnessa tieni scompone destra 3 lunga lunga questa scompone destra 3 lunga lunga al cartello rovesciato molta attenzione sinistra 3 gira e chiude 2 questa gira e chiude 2 gira e chiude 2 chiude due, per destra quattro lunga lunga tieni destra quattro lunga lunga tieni e attenzione a rail, sinistra tre gira, sinistra tre gira questa gira, destra quattro lunga lunga a fine rail, dosso destra tre lunga lunga dosso destra tre lunga lunga questa, lunga lunga dosso destra tre lunga lunga, lunga lunga sinistra tre lunga lunga Grazie a tutti